Buonasera e benvenuti a tutti all'evendo dell'anno, fortemente voluto dalla nostra dirigente Maria Carmela Stigliano. Levendo la scuola Stazione Terra, un viaggio di amore e vita, rappresenta il viaggio di ogni uomo nei meandri della vita. Agli alunni è affidato il combito di dare corpo, voce, musica ai tormenti dell'uomo. Quindi la scuola diventa Stazione Terra, dove transitano infiniti treni, sono i treni della vita, i treni della felicità, dell'amore, della legalità, della violenza, della solidarietà, i treni della vita. Con un capo stazione che dirige il traffico per arrivare a un lieto fine. I docenti, gli alunni e il personale tutto dell'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II hanno lavorato con amore, dedizione, creatività. L'Istituto è formato dall'infanzia, la primaria e la secondaria. Hanno collaborato nella preparazione dell'evento, ognuno nel proprio ordine di grado scolastico per dare il meglio. Il nostro augurio è che l'emozione possa giungere nei vostri cuori e trascinarvi in una esperienza meravigliosa che è la vita. È uno spettacolo pieno di emozioni e speriamo che colpisca il cuore di ognuno. La parola dovrebbe andare alla nostra dirigente, che è l'anima del nostro istituto, ed ecco lei che ha dato vita a questo spettacolo. Grazie e buon divertimento. Grazie, grazie alla mia carissima vicepreside e alla professoressa Palmieri. Bene, signori veramente grazie. Io voglio esordire dicendo, già vedervi tutti qui per me è un successo e vuol dire che ci sono tutti i presupposti per la buona riuscita dell'evento. Allora, di che parliamo stasera? Perché siamo qua? Io vi guardo, seppur c'ho questa luce, e mi illumino. Questa non è una frase mia, ma è di qualcuno molto molto famoso. Mi illumino perché per restare in tema di questa serata all'insegna delle emozioni e della magia, penso che queste siano le parole più giuste. Quindi la vostra presenza è per noi tutti un dono straordinario. Non me ne vogliate, voglio ringraziare coloro che con sentimenti di stima, di gratitudine e consentitemi di affetto accolgo qui stasera tra gli ospiti onorevoli, proprio importanti, autorevoli della manifestazione. Quindi un grazie a Sua Eccellenza, revendrendissimo, Monsignor Talucci. Un felice ritorno tra noi, grazie Monsignor. Un grazie a colui che ha portato in alto, in nome della nostra Basilicata, il nostro segretario al Ministero dell'Istruzione, il dottor Vito De Filippo. Grazie per la sua preziosa presenza. Grazie a colete, rappresenta una grande donna, ma rappresenta il mondo della legalità. E quindi il prefetto, la dottoressa Bellomo, che abbiamo il piacere di avere qui con noi stasera. Il dirigente del mio ufficio scolastico territoriale di Matera, la dottoressa Rosaria Cancellieri, grazie. Il presidente nazionale dell'Andis, l'associazione nazionale di dirigenti scolastici. Il dottor Paolino Marotta, di cui io mi fregio di essere anche presidente regionale di questa associazione, che rappresenta noi tutti i dirigenti, grazie. Un grazie ovviamente al sindaco, il dottore Enrico Mascia. Lui fa sempre la battuta e dice ti chiamo Maria Carmela, io affettosamente dico ti chiamo Enrico, grazie. Perché questo è il nostro primo incontro ufficiale qui tra noi. Poi voglio salutare ovviamente l'onorevole Carlo Chiurazzi, carissimo amico, paesano di vecchia data, e l'onorevole Cosimo Latronico, perché sono entrambi i novasiresi, come sono novasiresi io, ma sappiamo tutti. Grazie e benvenuti. Non me ne vogliate, un saluto a tutti i sindaci. Ci sono tutti i sindaci, che poi saluteranno la mia vicepreside, di tutto il comprensorio. Un saluto caro a tutti i dirigenti scolastici, i miei colleghi, e a tutte le autorità presenti. Il capitano della caserma dei Carabinieri, la dottoressa Grupi, il capitano del commissariato di pubblica sicurezza, il dottor Cirelli, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, e se qualcuno adesso ci sfugge, poi lo diciamo dopo. Ma ci sono tutte le autorità presenti, locali e non solo. Allora, io non voglio fare un intervento, perché stasera non deve essere la serata delle parole. Non parole maresse, come dico sempre ai miei alunni. E scusatemi, continuo sempre a dire ai miei alunni, perché come riporto, continuo a sentirmi sempre un docente. E nel fatto che io mi sento ancora tutt'oggi, in parte anche un docente, penso che questo sia un valore aggiunto, perché riesco di più a capire forse i ragazzi e anche i miei carissimi docenti, che hanno creato insieme con me tutto ciò che noi stiamo vedendo e ammirando. La scuola Stazione Terra, da dove nasce l'idea? L'idea nasce dal mio pensiero di scuola, e consentitemi, il mio pensiero di scuola è un pensiero estrettamente personale, e lo voglio riportare. Quando parlo di scuola, io parlo di quella scuola che ti entra dentro, che ti arriva fino nell'animo, che ti lascia un segno incisivo nella tua crescita. E questa è la vera scuola, che al di là della scuola come travaso di conoscenza, abilità, competenze, anche per carità, è la scuola che porta alla nascita, alla crescita della persona, sempre e comunque. E' in quest'ottica, in questa scuola aperta al territorio, in questa scuola che è valore storico e perenne, che l'Istituto Giovanni Paolo II apre le porte alla vita. E questa è la vita, la vita è un treno, è un insieme, come diceva prima la Vicepreside, di grandi valori che transitano nei meandri, appunto anche più scuri del nostro animo, l'amore, la felicità, la fede religiosa e l'umanità. Ti do la mano affinché la tua umanità possa venire fuori. Quindi, in questo contesto, la scuola deve necessariamente calarsi nel contesto di vita vissuta e deve dare quei valori essenziali e necessari per rendere il tutto più bello e più vero. Ed ecco allora le tessere che vedremo stasera, sono tessere di un puzzle che partono da lontano, però per arrivare fino ad oggi. La fede religiosa che vacilla, il sentimento dell'amore visto sotto diversi aspetti, l'allegria, la gioventù, la felicità, eccetera, 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 soprattutto attraverso un metafore, stazione, terra, universo, scuola. Ho concluso, concludo e dico, è uno spettacolo che io personalmente ho pensato potesse piacermi e poteva piacere sicuramente a tutti noi. In quest'ottica nasce la scuola Stazione Terra, un viaggio d'amore e di vita e quindi io lo voglio semplicemente dedicare a tutte le persone che sanno aprire i cassetti del loro cuore e credere in una scuola che sia stazione di vita, di amore, ma che sia una scuola al passo con i tempi. Io ci credo e ci credo ancora, grazie. E poi speriamo bene, incrociamo le dita perché adesso divento confidenziale, consentitemi, ho un po' paura che qualcosa non vada bene, però sono sempre ragazzi, anzi, non ragazzi, perché essendo un istituto comprensivo vedremo i bambini dai 3 ai 5 anni, poi quelli della primaria e poi quelli della scuola secondaria di primo grado. Grazie a tutti voi, è un dono meraviglioso avervi qui. Grazie. 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 La stazione è mia madre, la mia casa, la mia scuola, il mio passato, il mio presente e forse il mio futuro. Mi nutro di questa umanità errante, dei suoi profumi, colori, di aventi e della sua astruggente curiosità. Faccio muovere questi treni in perfetto orario, salvo qualche maternità precoce o altri eventuali imprevedibili H20. Prendete pure il vostro biglietto e non esitate. Il viaggio vuole dire crescere, favorisce gli incontri e la conoscenza. Salite in carrozza. Quando questa giosta si muoverà, sarà l'inizio di un'avventura indimenticabile. la 116. La 119. La 119. La 129. La 129. La 129. La 119. La 139. Grazie. 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 Non abbandonare i sogni, se puoi, dagli forza e consistenza e poi, lascia siano loro a prenderti, a portarti un'altra volta via da qui. Grazie. Questa vita è ormai malata, lo sai, violata e intossidata adesso, anche lei. Sotto questi cieli lividi, niente più carenze e brividi per noi. Che andrebbe di cambiare il mondo con me, di riprovarci un'altra volta io e te. Proprio come ieri noi, così inconscienti, curiosi ed intriganti, incontrodenti, mai. Giuro, la nostra immagine più vera dov'è? Giuro, la nostra immagine più vera dov'è? Giuro, la nostra immagine più vera. Giuro, la nostra immagine più vera dov'è? Era tutta un'altra storia, lo so, è un nemico la memoria. La lotta tra il bene e il male, la stazione terra, quella di partenza, i viaggiatori di sempre, Adamo ed Eva, la fede, la speranza e poi infiniti treni, il treno della vita, della felicità, della legalità, dell'amore, della violenza, della solidarietà. Giuro, la nostra immagine più vera. 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 Giuro, 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 la nostra immagine più vera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anch'io sono così strano, stanco dei peccati e delle benedizioni, delle promesse e dei tradimenti di questi cicli e ricicli tra una guerra e un'altra sperando in un definitivo illuminante abbraccio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ho più l'entusiasmo del tempo. La mia variante è l'ultimo tentativo per ottenere un mondo davvero più umano di questo. Vi manderò sulla terra un altro mio figlio. E questa volta spero abbiate la sensibilità e l'umiltà di riconoscerlo, di non tradirlo, di non torturarlo e di non lasciarlo morire sulla croce. Ancora una volta lui sarà uno qualunque, un fabbro, un cassino integrato, un maestro di scuola mal pagato, o chissà. Confido che la vostra saggezza vi riporti indietro a correggere gli errori della storia, perché la fede sia uno strumento per tutti, sempre. Quando dormite siete così belli, così innocui. Le pressioni video-plasmati nella luce. L'albero di questo mondo non parlavate ancora e vi trasferavate su tutti e quattro gli arti. Ispiravate interesse e curiosità. E io mi ho creduto. E per un momento siete stati il mio capolavoro. Sono un nuovo mancato. Ma è questo il mio grande dolore. Forse, forse se avessi abitato nei vostri panni vi avrei compreso di più e perdonato di meno. Ho cercato di privitarmi fuori da ogni calcolo e ponderatezza, creando involontariamente qualcosa di incontrollabile. Io, che sono sempre stato raffigurato come possente, immenso e infallibile, credevo che quel qualcosa che mancava nell'universo fosse proprio tu, un uomo. E tu invece sei il mio unico errore. Tu il peccato. Tu la mia più cociente delusione. E il responsabile del tuo insopportabile framonto. Non cercarmi per un po'. Sto lavorando ad un altro progetto. Ma non so se ne farai parte. Mia scellerata eratura. Ma non so se ne farai parte. Ma non so se ne farai parte. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Questa è felicità. Grazie a tutti. 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 Il treno della violenza. Grazie a tutti. La ragazza non immaginava che anche quello fosse l'amore, in mezzo all'erba lei tremava, sentiva addosso ancora l'odore. Chissà chi era, cosa voleva, perché ha ucciso i miei pensieri. Chissà se un giorno potrò scordare e ritornare quella di ieri. La ragazza non immaginava che così forte fosse il dolore. Passava il vento e lei pregava che non tornassero quelle parole. Adesso muoviti, fammi godere. Se non ti piace puoi anche gridare, tanto nessuno potrà sentire, tanto nessuno ti potrà salvare. Lei sognava una musica dolce, labbra morbide da carezzare. Chiari di luogo e onde nel mare, piccole frasi da sussurrare. Lei sognava un amore profondo, unico e grande, più grande del mondo. Come un fio che è stato spessato, così l'amore ne aveva rubato. Come un fio che è stato spessato, così l'amore. Come un fio che è stato spessato, così l'amore. Come un fio che è stato spessato. Come un fio che è stato spessato, così l'amore. Grazie a tutti. 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 Quindi vi saluto. Grazie a tutti. 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 Saluto. Grazie a tutti. Saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. e... a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.